Vi siete mai chiesti cosa accade dietro le quinte delle coppie più chiacchierate d'Italia? Oggi vi portiamo dietro le telecamere per scoprire una storia d'amore che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Iscriviti al canale e metti un like se vuoi scoprire di più su Greta e Sergio. Non dimenticare di attivare la campanella per non perderti nessun aggiornamento. La relazione tra Greta Rossetti e Sergio Dottavi, ex protagonisti del Grande Fratello, continua a essere al centro dell'attenzione dei fan. Nonostante i numerosi annunci che decretavano la fine del loro fidanzamento, sembra che qualcosa di nuovo stia bollendo in pentola. Greta e Sergio hanno vissuto una delle storie d'amore più tormentate tra quelle nate sotto le telecamere della casa più spiata d'Italia. Dopo la conclusione del programma condotto da Alfonso Signorini, la coppia ha rotto il fidanzamento numerose volte, annunciando l'evento con comunicati su Instagram, ma alla fine si sono sempre riappacificati. L'ultima rottura era stata voluta da Greta, proprio mentre Sergio si trovava in vacanza a Bali con degli amici. Un video in discoteca, in cui l'imprenditore ballava con una ragazza, aveva scatenato la gelosia della Rossetti, che aveva confidato a una follower, quando l'altra persona preferisce divertirsi da sola, senza includerti nei suoi piani, è un chiaro segnale che non c'è più spazio per te. Tuttavia, nelle ultime ore, una foto condivisa sui social sembra confermare che i sergetti si siano finalmente riconciliati. Sono giunte due segnalazioni, la prima diceva «Ciao», avvistati Greta e Sergio Mano nella mano al centro commerciale Carosello di Carugate. La seconda suffragava il ritorno della coppia, confermo. «Li ho visti uscire da casa di Greta. Stanno felicemente insieme». Adesso, anche una prova fotografica sembra provare la loro riconciliazione, anche se dai diretti interessati non è ancora arrivata alcuna dichiarazione ufficiale. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di mettere un like e iscriverti al canale per non perderti nessun aggiornamento sulla coppia più chiacchierata del momento. Lascia un commento con le tue opinioni sulla loro riconciliazione. Credi che questa volta Greta e Sergio siano finalmente pronti a stare insieme per sempre? Condividi i tuoi pensieri nei commenti.